Fines Online è il servizio che ti permette di trasmettere le pratiche agli enti locali valdostani per via telematica. È la prima volta che usi Fines Online? Lascia che ti spieghi come fare i tuoi primi passi sulla piattaforma. Vai su celva.it oppure sul sito del tuo comune. Nella home page del sito trovi un link per accedere ai servizi online e alla modulistica. Seleziona l'area di tuo interesse e cerca il servizio online di cui hai bisogno. Altrimenti, se conosci già il numero del servizio, puoi usare la ricerca per trovarlo più velocemente. Seleziona l'ente al quale devi trasmettere la tua pratica. Clicca sul tasto Esegui. Eccoti arrivato alla porta d'ingresso dei servizi online. Accedi con l'identità digitale che preferisci. Puoi scegliere tra Speed, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Benvenuto in Fines Online. Ora vediamo come compilare la tua pratica. Ma prima, conferma di aver letto le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. La compilazione è suddivisa in diversi blocchi. Il primo blocco è uguale in tutti i servizi e serve per inserire i tuoi dati anagrafici. Clicca su Compila. Vedrai che alcuni campi sono già stati riempiti automaticamente. Controlla che i dati siano corretti e integra con quelli mancanti. Seleziona per conto proprio per dichiarare che sei l'intestatario dell'istanza. Poi clicca su Salva e avanza nella compilazione dell'anagrafica. Ora controlla un'ultima volta le informazioni inserite. Torna indietro per correggere un eventuale errore. E salva. Complimenti! Hai compilato la tua anagrafica. Noterai che il blocco, da rosso, è diventato verde, proprio come un semaforo. Questo significa che è stato compilato e salvato correttamente. Compila anche tutti gli altri blocchi allo stesso modo. Ora, se ti è più comodo, puoi scaricare l'anteprima della pratica per controllare i dati inseriti. Clicca su Continua per trasmettere la pratica. La pratica è stata trasmessa. Se vuoi, lascia un commento. La tua opinione è importante. Hai ancora dubbi? Puoi contattare i nostri uffici scrivendo a consulenza-celva.it Prenditi ancora un minuto ed esplora la playlist dedicata a Fines.